Bioenergy Cremona, Chimica Verde al quattro anno che partecipa come partner scientifico della Fiera insieme a Lega Ambiente e altre istituzioni. La Fiera cresce e speriamo di continuare a portare innovazione e sviluppo perché questi sono gli obiettivi statutari dell'Associazione Chimica Verde che presiedo. Il convegno di questa mattina è legato alla nuova dieta del biogas, personalmente parlerò della questione sottoprodotti, la normativa e gli incentivi. Più che altro il problema della normativa è un problema da risolvere, la normativa è tuttora ambigua e occorre formazione. Quindi quello che noi andiamo a cercare è bene incentivare principalmente, lavorare principalmente sui sottoprodotti o i residui di una filiera agricola o agroindustriale. L'importante è finire con le ambiguità e poter lavorare in maniera trasparente e più facile per le aziende agricole e gli imprenditori.